Signora Presidente, onorevoli colleghi, signore Ministre e signori Ministri, il Governo che si presenta a chiedere la fiducia è un Governo di responsabilità, garante della stabilità delle nostre istituzioni. È un Governo che intende concentrare tutte le proprie energie sulle sfide dell'Italia e sui problemi degli italiani. I compiti di un Governo sono chiaramente definiti dalla Costituzione e il suo profilo politico è iscritto nel quadro della maggioranza che ha sostenuto il Governo precedente e che non è venuta meno. Per qualcuno si tratta di un limite. Io lo rivendico. Rivendico il grande lavoro fatto negli anni che abbiamo alle spalle, i risultati ottenuti che hanno messo in moto le energie dell'Italia e che ci vengono riconosciuti a livello internazionale. Sono risultati di cui siamo orgogliosi e che fanno onore alla maggioranza che li ha sostenuti in questi tre anni di Governo. Non mi nascondo naturalmente che pur nel quadro della medesima maggioranza il Governo nasce in un contesto nuovo, creato dalla bocciatura nel referendum della riforma costituzionale e dalla conseguente scelta di dimissioni del Presidente Matteo Renzi. Questa scelta, che ha originato la crisi, non era obbligata, ma era stata ampiamente annunciata da Renzi nei mesi scorsi. Averla compiuta è stato un atto di coerenza cui non solo noi del Governo e della maggioranza, ma a mio avviso tutti gli italiani che hanno a cuore la dignità della politica dovrebbero salutare con rispetto. Queste caratteristiche della crisi hanno determinato, sulla base della ferma guida del Presidente della Repubblica Mattarella, che voglio qui ringraziare di fronte a voi, hanno determinato i tempi rapidi del nuovo Governo e ne definiscono il programma. Lascio alla dialettica tra le forze politiche il dibattito sulla durata del nuovo Governo. Per quanto ci riguarda vale la Costituzione. Il Governo dura fin quando ha la fiducia del Parlamento. Spetta a me, piuttosto, indicare quali saranno le priorità della nostra azione, tesa a completare il lavoro fatto fin qui. La prima priorità è senz'altro l'intervento nelle zone colpite dal terremoto. Abbiamo avuto una risposta straordinaria di tutte le nostre forze dell'ordine, dei volontari, della protezione civile nelle emergenze. Ma siamo ancora in emergenza. E dalla qualità della ricostruzione dipende la qualità del futuro di una parte rilevante del territorio dell'Italia centrale. E da questi passi che faremo dipende anche la forza che avremo nello sviluppare quel programma a lungo termine che abbiamo definito Casa Italia e che cerca di lavorare sulle cause profonde dei danni che vengono provocati dagli eventi sismici nel nostro Paese. Avremo un'agenda di lavoro molto fitta. Io mi limito ad alcune priorità. Ci metteremo al lavoro innanzitutto sul terreno internazionale, dove ci aspettano appuntamenti molto importanti. Tra un paio di settimane l'Italia entrerà nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e assumerà la presidenza di turno del G7. Lo faremo in un momento difficile, caratterizzato da una particolare incertezza che si determina anche per la contestualità con la transizione americana, che come sapete si concluderà il 20 gennaio. E approfitto dell'occasione per dire che noi siamo pronti a collaborare con quello che è da sempre il nostro principale partner e alleato, gli Stati Uniti, forti nella difesa dei nostri principi, ma convinti sostenitori dell'Alleanza Atlantica. Incertezza accentuata dalle condizioni molto difficili di diversi teatri di crisi nel mondo. L'impegno sarà particolarmente rilevante nel contesto dell'Unione Europea e io credo che sia importante, se il Governo riceverà la fiducia del Parlamento, la possibilità di partecipare sin da giovedì a un importante Consiglio europeo con l'Italia rappresentata a pieno titolo, l'Italia tra i Paesi fondatori dell'Unione Europea. Io, devo dire nella mia precedente esperienza, ho tenuto molto a sottolineare questo ruolo dell'Italia tra i sei Paesi fondatori di questa straordinaria esperienza che è l'Unione Europea e che ci accingiamo nel mese di marzo a vedere celebrare il sessantesimo anniversario e non sarà una celebrazione ma una scommessa sul futuro. O almeno noi cercheremo, noi Governo italiano, di non farne soltanto una celebrazione ma di farne un momento di discussione proiettata verso l'avvenire. Consiglio europeo di giovedì e venerdì, nel quale avremo due o tre questioni molto rilevanti all'ordine del giorno. La discussione in corso sul rinnovo del cosiddetto regolamento di Dublino, quello che definisce l'atteggiamento dell'Unione Europea circa la prima accoglienza dei rifugiati e dei migranti e su cui vi devo dire che l'Italia avrà una posizione molto netta nel sostenere quelle che sono le nostre ragioni perché ancora una volta non è accettabile e ancor meno lo sarebbe nel quadro di una ipotetica riforma di questo regolamento. Non è accettabile che passi di fatto un principio di un'Europa troppo severa su alcuni aspetti delle sue politiche di austerity e troppo tollerante nei confronti di Paesi che non accettano di condividere le responsabilità comuni sui temi dell'immigrazione. Poi discuteremo di Siria, del modo in cui la crisi siriana sta definendo i rapporti tra l'Unione Europea e la Russia in un momento di transizione per l'amministrazione americana. Accanto alla politica estera cercheremo di dare messaggi forti sulla nostra sicurezza, nel contrasto alla criminalità organizzata, nel lavoro sempre più forte per prendere in mano il tema dei flussi migratori, delle politiche di accoglienza, delle politiche di rimpatri, della gestione condivisa con le amministrazioni locali di questa questione, mantenendo l'equilibrio che ha caratterizzato il Governo in questi anni su questo tema e cercando, se possibile, di essere ancora più efficaci nelle politiche di attuazione. sul terreno economico, naturalmente. Il Governo intende accompagnare e rafforzare la ripresa che finalmente, gradualmente, a nostro avviso ancora molto lentamente, però si sta manifestando anche nel nostro Paese. Accompagneremo la ripresa con le grandi infrastrutture, con il piano straordinario dell'industria 4.0, con un nuovo slancio alla Green Economy, frontiera su cui davvero possono farsi valere le eccellenze del mondo dell'impresa italiano nel quadro delle decisioni internazionali che sono state prese sul clima e che l'Italia difenderà nei prossimi mesi con molta forza. È in questo quadro che affronteremo anche i problemi legati al nostro sistema bancario, che è un sistema nel suo insieme solido che sta contribuendo, finanziando l'economia reale alla ripresa. E si sta lasciando alle spalle, anche grazie alle misure prese dal Governo negli ultimi due anni, le conseguenze di una profonda recessione. Sappiamo tutti che vi sono dei casi specifici che, anche a causa di comportamenti inadeguati o illeciti di amministratori sui quali sta indagando la magistratura, richiedono oggi il rafforzamento patrimoniale e per i quali sono stati predisposti piani di ristrutturazione e aumenti di capitale attraverso il ricorso al mercato. Voglio dire molto chiaramente in questa occasione che il Governo, come siete, ove necessario, è pronto a intervenire per garantire la stabilità degli istituti e il risparmio dei cittadini. E voglio ribadire, prendo questo spunto per ribadire qui, che l'Italia è un'economia forte, che non è aperta a scorribbande, che ha smentito in modo molto chiaro le profezie di Apocalissi che qualcuno aveva fatto in caso di questo, l'esito del referendum. Questa è l'Italia. L'impegno del Governo sarà molto importante, naturalmente, sul piano sociale, per completare la riforma del lavoro, per attuare le procedure per le norme sull'anticipo pensionistico, così come sul terreno dei diritti, dove molto è stato fatto, ma altri passi avanti possono essere realizzati. Infine, intendiamo ridare slancio a tre grandi azioni di riforma che sono in corso e che necessitano un impulso ulteriore. La riforma della pubblica amministrazione, la riforma del processo penale, il libro bianco della difesa, a cui sono collegate tante iniziative. E infine vorrei aggiungere all'agenda delle nostre priorità due grandi questioni su cui finora, a mio avviso, non abbiamo dato risposte pienamente sufficienti. Innanzitutto, i problemi che riguardano la parte più disagiata della nostra classe media. Parlo sia del lavoro dipendente che delle partite IVA. Questa parte più disagiata della nostra classe media deve essere al centro dei nostri sforzi per far ripartire l'economia. Proprio perché noi non vogliamo rinunciare alla società aperta, ai vantaggi del commercio internazionale, all'evoluzione digitale. Proprio per questo dobbiamo difendere quei scetti disagiati che da queste dinamiche si sentono penalizzati o addirittura sconfitti. E poi dobbiamo fare molto di più anche sul mezzogiorno. La decisione di formare un ministero esplicitamente dedicato, oltre che alla coesione territoriale, a mezzogiorno non deve far pensare a vecchie logiche del passato. Al contrario, noi abbiamo fatto molte cose in questi anni per il Sud, ma credo che sia ancora insufficiente la consapevolezza che proprio dal Sud e dalla sua modernizzazione può avvenire la spinta più forte possibile oggi per la crescita della nostra economia. Onorevoli colleghi, accanto a questa attività, alla nostra agenda, prenderà a corpo il confronto tra le forze parlamentari sulla legge elettorale e la necessaria armonizzazione delle norme tra Camera e Senato. Un confronto nel quale il Governo, voglio ribadirlo, come ho avuto occasione già di dire negli incontri con le diverse delegazioni, un confronto nel quale il Governo non sarà l'attore protagonista. Spetta a voi, onorevoli colleghi, la responsabilità di promuovere e trovare intese efficaci. Certo, il Governo non starà alla finestra, cercherà di accompagnare, di facilitare e anche di sollecitare questo confronto. La sollecitudine non deriva dalle valutazioni sulla durata dell'esecutivo. Deriva dalla consapevolezza istituzionale del fatto che il nostro sistema parlamentare ha bisogno di regole elettorali certe e pienamente applicabili e ne ha bisogno con urgenza. Le consultazioni, onorevoli colleghi, hanno evidenziato l'impossibilità di una convergenza generale nel sostegno a questo Governo di responsabilità, cheppure era stata invocata. Ne abbiamo preso atto, procedendo nel quadro della maggioranza, anche se ci auguriamo che possano maturare apporti e convergenze più larghe su singoli provvedimenti, ma di una discontinuità, almeno nel confronto pubblico, io penso che avremmo davvero bisogno e sarà uno dei miei impegni maggiori sul piano personale. Il Governo non si rivolgerà certo a quelli del sì contro quelli del no, si rivolge a tutti i cittadini italiani, si basa su una maggioranza, rispetta le opposizioni e chiede rispetto per le istituzioni. Chi come me è sempre stato animato da passione politica non si ritrova nella degenerazione di questa passione. La politica e il Parlamento sono il luogo del confronto dialettico, non dell'odio o della post-verità. Chi rappresenta i cittadini deve diffondere sicurezza, non paura. Su questo è impegnato il Governo e anche su questo chiede alla Camera la sua fiducia. Grazie.